Ma cos'è sto telefono? ...della prostituzione BAPPANCULO! Tutte le volte che parco preso nella vista da baffanculo ti e tutti quanti qui come ti Dai andiamo BAPPANCULO! ... ... ... ... ... ... Bentornati nel canale delle borne o niente, proverò di giocare con questo imparare che istruzioni individuali non ne ho e proverò a giocare con questa si è tutta male giocherò con questa non è neanche male ho tutta la difesa B e solo Witzel è C e in panca però ho Obier che è B e al massimo metto Anderson mediano e Hoiberg a destra mi porto Diaz, Depay e Oland e questi qui proverò con questa a salire in divisione 4 visto che con l'altro non c'è verso praticamente è diventata la squadra più merdosa di mai ho due punti eh due punti basterebbe vincere basterebbe vincere una partita e si va in divisione 4 credibile credibile adesso vediamo chi cazzo mi trova mi troverà un 2700 sta a vedere guarda vabbè aspettiamo che faccio il match quanti tacchi ha questo? 4 vediamo con chi me l'ha parecchio a sto giro ma ve l'ho detto un 2647 vabbè 100 punti più della mia squadra vediamo se me la riesco a giocare così firtina a buco eh chissà da dove cazzo viene fuori questo Gabriele Jesus chissà da dove viene fuori questo che stufo che so ma a mio avviso non ci sta giocando più nessuno in Italia dai non ci sta più giocando nessuno in Italia e io lascio tutto con me guardo solo la sua formazione ah 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 Ronaldinho ha pescato questo uh guarda che attacchetto come fa avere il 2647 non si sa vabbè all'attacchetto così io metterei solo fammi vedere una cosa si metto le marcature sugli esterni come si fa? istruzione individuali non qua ma qua marcatore Sergio Roberto sulle stanno sinistra su Neymar esatto e l'altro marcatore è Ake su le stanno destro che è Messi tieni guarda 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 quanto gira la E avete visto anche l'inizio del video cioè c'è una tragedia più cazzo di connessioni hanno questo preferirei riuscire ad andare in divisione 4 prima dell'aggiornamento cioè oggi altrimenti si prepara un calvario col nuovo aggiornamento dopo non so perché migliano l'attacca su rossa ormai vabbè a parte me lo facesse fare il passaggio prima prima se me la butta via si mi raccomando eh mi raccomando non statevi da marcare mai questa è la marcatura eh guarda che lava guarda che lava sei metterci un po' di più metterci un po' di più metterci un po' di più e fa il passaggio Watkins non ha saltato eh ok e se fa anticipare in due non passa non passa la palla non passa neanche molto non passa guarda guarda che roba ma pur di fargli fare quel cazzo che vuole è una roba incredibile guarda 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 guard Ma perché Sti passaggi di merda Cioè vabbè Allora che col che zappo Cioè lasciamo perdere Cioè non so se state notando Che cazzo stanno combinando Niente Non mi accompagna l'azione Cioè sono completamente distaccati Sono Ma la Griezmann salta ma non ci arriva Bravo Buttala fuori Dai devo fare una modifica Perché ho visto che c'è già qualcosa che non mi torna Qua Allora sta roba attivata è cosa che mi sta sul cazzo Se cazzo Se cazzo Se cazzo Bravo Coco Se cazzo Mettiamo la tacca giù Guarda che No Fermano Non ho parole Ma si fermano Ma si fermano Guarda Guarda questo Ma dai ma che cazzo Muoviti cazzo Guarda che roba È caduto Ok che cazzo fa qua in alto Pallo gli ha dato Niente Devo togliere le marcature Perché vedete che stanno altissimi I cose che stanno chissà dove adesso Niente Li mettiamo il difensivo Togliamo quello Togliamo le istituzioni individuali Perché ho già visto che quando non si sa dove Li rinseguono su tutto il campo Non è che li aspettano Quindi il difensivo Ad Ake E il difensivo Ah Sergio Roberto Avrei messo l'ancoraggio anche Adiz Lasciamo così L'avevo capito Due ore fa sta roba Allora se qualcuno Allora se qualcuno Va a prendere il pallone Ma la te cagare Dai Dagliela Prima Ma di prima Cazzo Ma è possibile che non la danno Mai di prima Non la danno mai di prima Sta cazzo di palla Pallo Non sta a fischiare niente Non sta a fischiare niente Guarda dove cazzo che l'ha messa Guarda dove cazzo che l'ha messa Guardate dove cazzo che l'ha messa Cioè non l'ha stoppata Non l'ha stoppata ragazzi Cioè Griezmann non stoppa il pallone Lascio perdere guardate Griezmann non ha stoppato la palla Ma dai ma cosa ha fatto Ha fatto la finta di tiro da solo Ma che cazzo fanno Porca Eva Guarda st'altro Dei mongoloidi Dei mongoloidi in campo Niente sono a voto Vanno a voto Vanno completamente a caso Guarda questo sotto le gambe Se l'ha fatta passare Ma non era là Vabbè Ma no ma quella per Griezmann Niente non capiscono un cazzo Guarda che c'è il buco C'è il buco L'ho già visto L'ho già visto Guarda mi è passata dietro Mi è passata Mi è passata dietro Dietro le spalle Mi è passata la palla Che tristezza Dai butta su Putta su così Vabbè vado a fare Questo gioco Dai vai Cazzo dai vai Dai Dai Non era proprio questo Che dovevi fare Cazzo Vabbè Finito il primo 1-0 Una fatica Per fare un gol Dai Cioè un tiro 1-1 1-1 Una partiazza Mai vista Ma difficoltà assurda Dai Una difficoltà assurda Per fare 4 passaggi E' che è andato Sì E' che è andato E' andato dove Guarda questa la tiene anche Sì andato Dove cazzo vai anderson Dove cazzo vai anderson Niente non passa Non passa mai Sta cazzo di palla Ma va cagare E' andato Sì andato Sì andato Sì andato Sì andato Niente Non vanno più Non vanno più Non vanno più in attacco Non vanno Ma va cagare Ma non è neanche saltato Va cagare Ma va cagare Devo fare i cambi Anch'io dai Non è neanche saltato Quel coglione Allora facciamo così Anzi più di fare i cambi Li trasformo in seconde punte Così E questi facciamo così Questi li allarghiamo un po' Vizio lo portiamo un po' più su E questi Sì non tanto allarghi Così Ok Questo un po' più giù E questo un po' più giù Vediamo se E' così E' l'unica cosa che farei Mettere in Holland Anzi no Si metto Holland Vai Metto Holland Davanti Che cazzo sta facendo Non si sa Da qua non si capisce Aveva fatto di cambio Non lo so Non so che cazzo è andato a toccare Non vedo che ha fatto cambio Io si Io si ho fatto il cambio Dai Hollanda Guarda dove cazzo sta passata Il mio dov'era Era già a chissà dove Dai che è andato qui su Dai a Hollanda Dai Sei cazzo A Hollanda Un po' di culo anche a me Un po' di culo anche a me Cazzo Comunque avete visto Ho dovuto giocare con la spada più scarsa Per riuscire a fare Il risultato Traversa Le chisman Qua è Pau Torres Bellissimo Questa è andata a vuoto Peccato Era bello se Usciva Torna vista Cazzo Io non ho mai fatto Il sensation A shot A Hollanda Ma non era male La giocata Era bello Attenzione La sostituzione Questa è andata Questa è andata Guarda Gris Ma quanto che ci ha messo A fare il passaggio Eh Ciao Dai fammi fare questi cambi Va Che ho gente morta Ho visto Allora Prendecello Lo porto di là Coca è finito Metoiber Qua Prisma è morto Quindi Depay L'ha messo qua Eh Però Il posto Sergi Roberto Lo supporta su E Molina Viene qua Questi si allargano un po' Troppo stretti Ok Vediamo se riusciamo a fare Anche il 3-0 Comunque è incredibile Che ho dovuto mettere La spada più scarsa La spada più scarsa Che è vero Incredibile 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 Allora Hollan Che detesta Levanta 1 Guardi tutti Che corre a casa Il numero 10 Il numero 16 Eh Fallo segnare Dai Guardi Fallo segnare Perché ci voleva Il 2-1 No Demonia in Quasi Quasi Mi segna Ho sbagliato io Perché devo premere il quadrato Sinceramente Ho sbagliato io Dovevo premere il quadrato Però Non esista Non esista Non esista Sta dove Dai La palla continua a restare là Anche se Continua a fare Dargliela pure a lui Ma guarda che no Non si muove Credibile Tenete vista Com'è che non si muove Cioè Depay Ho fatto il doppio scatto Sì è rimasto là Sì è rimasto là Sì è rimasto là Che cazzo Devo farlo Vediamo se li facciamo 3-0 Su calcio d'angolo Sarà di nuovo Angolo Però effettivamente Che batte Enderson Da là Non c'è tanto bene Scusa Non ho altri No Vabbè Facciamo così E la battiamo così Velocemente Non ci credo Tenita 2-0 Guarda Toca e Alan Ci portano in divisione 4 Però Che tristezza 10-5 Alla prima faccia Vabbè Abbiamo raggiunto La divisione 4 Chi è che ha preso Dei punticini Griezmann Perfetto Ho preso un contratto Che a 5 stelle Che potrei prendere So Adesso More lines Mi frega un cazzo Avete visto? Ma lo sapevo Che avrei vinto Perché Da me È così È così Guardate La media È quella di partite Che faccio È persa Tontanando via La persa Partiamo dalle vittorie Faccio 1-2-3 Vittorie consecutive Poi ne pareggio 2 E poi devo perdere E poi ricomincio Vinta Cioè la media È 3 vittorie La media è 3 vittorie 2 pareggi E una persa Quella è la media Che faccio Di partite Vabbè Saltiamo No Ho sbagliato Sono uscito Saltiamo Andiamo in divisione 4 E lì Non so Che cazzo Di formazione Userò Comunque Avete visto Usando la mia A 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